Ancora un'altra volta in questi giorni assistiamo alle migliaia di morti causate dai danni nell'ultimo terremoto che è avvenuto tra la Turchia e la Siria e come sempre purtroppo si torna a parlare di questo tema ma quello che spesso non si comprende ancora è che non è il terremoto che fa i danni, è il nostro modo di costruire e quindi le nostre inadeguatezze. Si tratta di costruire meglio e di considerare la vulnerabilità sismica degli edifici anche di quelli esistenti, quindi metterle mani prima che arrivi un terremoto. Da questo punto di vista anche in Italia abbiamo perso un altro treno che è stata la grande possibilità che il super bonus per gli interventi di adeguamento sismico poteva essere e che purtroppo non è stato colto perché rispetto a tutti gli interventi del super bonus gran parte sono stati dedicati anche come risorse all'efficientamento energetico e ben venga, purtroppo però solo un decimo sono stati interventi di miglioramento di adeguamento sismico dei nostri edifici, delle nostre case e questo purtroppo è un'altra mancanza e speriamo di non doverla pagare cara in futuro.